E' forte Perché voi direte L'acqua non c'è E c'è il caffè E' forte sta cosa perché Non lo so io perché E mi copro l'orecchè Che sono un po' a sventola E' mica colpa mia E dove il problema Perché se sono a sventola Recepisco meglio E' come la parabola E mi sono incantato E la cosa non va bene E mi sono chiesto Davvero E poi alla fine Veramente una domanda E il gabbiano L'ha trovata la compagna Una cosa veramente Che io Sinceramente non lo so E c'era quella canzone Lì che si era fatta Ed era E il titolo era Azzurro E ma Cacchio E pensavo Perché io penso delle volte anche E pensavo Ma Cavoli Ma E si viene La nuvola grigia E viene il temporale E viene la pioggia E allora non si può più chiamare azzurro E grigio E cavoli E si Comunque Un'altra cosa Che mi veniva in mente Veramente Perché E' questa cosa E' fantastica E' forte Veramente Come siete forti voi Perché anche voi siete forti E molto forti E mi domandavo Ma il microfono Ma forse Non so se l'avevo già detto questa E non me lo ricordo E pazienza Sono ripetitivo Non importa Buon dizionario E no E questo Non è il tuo Buon dizionario oggi E no E ci sono io adesso Oggi E mi dispiace E dicevo Ma come mai Il microfono Lo chiamano anche Gelato E Però non si mangia E c'è da pensare E perché E' chiamato gelato Se non si mangia E quello è il fatto E non capisco E comunque sia Io vi saluto E vi ringrazio Ma perché Perché Comunque La cosa fondamentale E' il volersi bene Che è la cosa più bella del mondo E allora Vogliamoci tutti bene E che dire Io vi voglio bene E io vi saluto E ciao E alle prossime E ci vediamo E siete forti